Ok, ci siamo. Allora, ora vi spiegherò un piccolo zucchetto per poter migliorare la vostra connessione durante le partite. Perché sarà capitato a tutti che durante l'inizio della partita o l'endgame vi è scattato il gioco per diversi motivi. Allora, il metodo è molto semplice. Basta trovare il centro dati che può corrispondere meglio con il vostro modo, cioè con il vostro ping. Vi spiegherò come si accede. Innanzitutto si torna al menu principale. Da qui, in opzione, si può vedere il tasso necessario. E arrivati qua, si preme R3. In questo modo si apre la lista dei centro dati. Io vi suggerisco di mettervi il centro dati con il ping più basso che c'è. In questo caso per me è francoforte. Però per voi potrebbe essere qualcos'altro. Però, ora c'è una cosa che devo spiegarvi bene. I centro dati col ping negativo evitateli assolutamente. Perché sono delle zone praticamente che a volte non farò neanche giocare per degli errori. Da quel che ho provato io almeno. Non sono un po' sicuro. I pacchetti persi, per chi vi si interessa, è un parametro che porta ai dati che si possono perdere, ma tranquilli, non capirà mai. Anche scritto da me 22%, non è mai successo. Possono essere, che ne so, dati persi di 5 secondi, quindi cose non importanti. Quindi a posto. Non preoccupatevi di quello. Per il resto, non c'è molto da spiegare. Una volta scelto il proprio centro dati, col ping più basso, vi suggerisco sotto al 100, dovreste essere a posto. Probabilmente molte partite laggherete ancora, ma vi assicuro che la percentuale di quelle partite si abbasserà notevolmente. Fate caso che a me, prima che avevo un ping di quasi 200, riuscivo a non laggare in 4 partite su 10. Adesso in 8 su 10. Quindi risolto il mio problema almeno. Spero di avervi aiutato e buon game a tutti.